Allora, questa esperienza italiana, cosa ti ha insegnato? Di mangiare l'anguria? Sfruzzando l'alapodico. Io? Sì, uccido. Qualcuno che mi capisce. A Jesolo, stiamo andando dall'autista. Allora, niente vanilla stasera, abbiamo programmato uscita in discoteca, però siamo uscita a Jesolo, però adesso c'è l'ambulanza sotto, quindi ci tocchiamo un po' a ferro, diciamo ferro. No, bellissimo perché, ok, dai, andiamo al vanilla, ci scateniamo, discoteca, yes, 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 prendi l'autobus. Arrivi a Jesolo, sto stanca. Fai io che mi inginocchio davanti a tutti, però dettaglio. Ha chiesto alla Denise di sposarlo, inginocchiandosi davanti, è questo che la gente pensava, spero, ma sono i stranieri, magari che non capiscono l'italiano, e pensano, oddio, 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 che inginocchiata. E dopo basta, l'ho mandata a fanculo. Vabbè, allora, allo. Sono qui con Ilaria. La mitica sola, unica, inimitabile, fantastica. Che non la vedo da un anno e mezzo, cazzo. Ah, va vero. Sul mio canale ti senti delle parolacce. Cazzo, baffanculo, stupido, strazionante. No, beh, se la tagli perché... No, non taglio un cazzo. Tuttiamo tutto così. I bambini da 10 anni, le cattivissime. Siamo delle cattive. Allora, intanto non mi segue nessuno, quindi ancora... Lei è AriaV comunque. Ciao. E non la vedo da un anno e mezzo, tipo. Oh, vero. Madonna. E gli voglio un sacco di bene, però. Perché non sei venuto in Inghilterra? Cosa è la vera domanda? No, perché non torno a stare là? Perché tu non vieni di là? Perché non avevo i soldi per venire? Esatto. Siamo poveri. No, però mi piacerebbe venire. Esatto, dovresti. Vlog a Londra. Weekend di Furia. Comunque, cosa si può dire? Siamo qua. Stiamo tornando alla retta. A Yes Lo City. Per loro andare a fare festa al Vanilla. E per te andare a letto. E per te andare a letto. Perché io sto facendo la stagione, lei fa la bella vita. No, aspetta. Sai quando ci dobbiamo vedere? Alle 3 del mattino. Ah, stai sveglio. No, no, no. A che ora inizi domani? Alle 7. E me... Oh, no, inizio alle 8. Che vita. Che giorni fai? Quanto lavori? Lavoro 10 ore al giorno. Uh, ti capisco. Amazon ti ammazza. Stanno a presentarmi, oh my God! Allora, racconta le tue storielle. Fai dai, racconto io adesso. Alla ragazza che c'è qua davanti, che non vuole farci vedere. Ciao! Ciao! E' la nostra manager. Lei... Ci giustisce. Per farla aspettare 20 minuti in più a lei, mi sono dovuto inginocchiare davanti a tutti in stazione, cazzo. Mi sono dovuto inginocchiare davanti a tutti. Pensa a te per quanto sono malato io per lei. La dedizione! La dedizione! E avrai altre milioni di cose da raccontare. Dobbiamo creare nuove storie, dobbiamo avere nuove avventure di cui parlare. Dobbiamo fare cose pazze. Però siamo poveri. Però siamo poveri. Però siamo poveri. Però siamo poveri che niente. Il fatto è, noi vorremmo farle, ma siamo poveri. Le faremo nella nostra testa e basta. Quindi vabbè, io e i miei video sono più corti dei tuoi. Io e i miei mezz'ora, un'ora di video. Un saluto da RichieDev97 e un saluto da AriaV, detta Ilaria, anzi, Ilaria, vedi che sforgorati. Ilaria per un 22.000, 23.000 persone, detta AriaV. Ah lol. Ah lol da Jesu. Seguitemi, condividete, mettete like e seguitetela e mettete like a lei. AriaV, W, ciao.